Poco meno di 1,2 milioni di euro per finanziare la pratica sportiva in Puglia e il magro bottino che distribuisce ogni anno l'assessorato regionale competente nonostante la promessa di assicurare lo sport a tutti in Puglia. Tre i settori di finanziamento ammissibili, l'organizzazione delle manifestazioni, circa 300 mila euro l'anno, i progetti di diffusione della pratica sportiva, altri 310 mila euro e l'acquisto di attrezzature per circa 120 mila euro. Stiamo per ospitare il campionato mondiale di volley femminile qui in Puglia nel torneo finale. Abbiamo anche un'altra linea di sostegno ai cosiddetti progetti speciali, per i bambini a rischio, per i portatori di handicap. Un'ulteriore linea che si è aggiunta recentemente per il sostegno dello sport di eccellenza. Aiuti che sono assegnati in base a regole puntuali e trasparenti pubblicate sul sito pugliasportiva.it, un osservatorio dove confluiscono le associazioni riconosciute e censite, 1746 in tutto beneficiari dei contributi e gli impianti sportivi presenti sul territorio regionale, 3710 tra pubblici e privati, compresi quelli scolastici. Queste le regole per richiedere i contributi. Pugliasportiva.it, lì ci sono non solo tutte le informazioni per accedere a diverse opportunità, ma c'è soprattutto l'albo al quale bisogna iscriversi per avere accesso a queste opportunità. Quindi tutte le società sportive non devono fare altro che iscriversi e partecipare insieme con noi alla costruzione della politica sportiva.